Questo è diventato un parco divertimenti notturno, lo si vuole così, con tutta una serie di conseguenze, per cui la gente vive il peggio di quello che riguarda la mia vita e una serie di persone possono pensare a questo, un posto dove di notte si possa fare qualsiasi cosa. Purtroppo sto cominciando a valutare l'idea di trasferirmi, perché certo la casa perde di valore, ci rimetterò tanti soldi, ma la salute mia e della mia bimba piccola che si sveglia in piena notte purtroppo non apprezzo. Quindi sono vicino a dichiararmi come sconfitto. Voglio essere tutelato, ho il diritto di essere tutelato, se no perché devo pagare le tasse, perché mi date quel minimo di servizi, di igiene, di pulizia, di ordine. Cinque furti in due mesi tra abitazioni e attività commerciali, motorini e auto in fiamme la notte del 13 settembre, campane di vetro e secchioni presi di mira dai vandali. E poi la solita movida selvaggia, con tutti i disagi che comporta, le auto in sosta vietata, centinaia di persone a bere in strada tutta la notte, contravvenendo al regolamento di polizia urbana che dalle 23 lo vieta. Episodi che testimoniano come il tema della sicurezza a Montesacro e dintorni sia sempre d'attualità. Sono anni che residenti, a prescindere dai colori politici delle amministrazioni che si sono succedute, chiedono più controlli e rispetto del regolamento di polizia urbana. Il senso di impunità lo percepiamo perché i gestori dei locali non si adeguano alle ordinanze. Nel senso che non solo restano aperti oltre le due di notte, ma anche il fatto stesso di poter permettere di bere per strada oltre le 11 o mezzanotte, in funzione poi dell'ordinanza di riferimento, fa sì che ci siano decine e decine di persone per strada liberamente a bere e che chiacchierano con un livello poi sonoro che chiaramente con il salire del livello alcolico aumenta fino alle 2, fino alle 3 di notte. Immaginate che dalle 12 alle 3 di notte ci sono persone per strada che parlano, che gridano e non c'è alcun tipo di controllo. Quindi c'è un'ordinanza, sì, è scritta sulla carta, perché purtroppo qui volanti se ne vedono poche o magari ne passa una alle 9 di sera, ma dopodiché non si vede più nessuno. A inizio settembre c'è stata un'escalation di vandalismi e di fenomeni di insicurezza. Solo in due settimane abbiamo avuto furti nelle abitazioni, proprio qui in Viale Cottardo, in questi palazzi qui intorno, dove si pensava che essendoci persone che frequentano la strada di sera sarebbe stato più sicuro. Invece sono stati fatti solo da maggio a oggi furti nel nido che sta più avanti, su questa stessa strada. Due negozi hanno avuto dei furti di notte, in piena notte, caso cadante la ferramenta che è di fatto unita alla piazza dove c'è un forno aperto tutta quanta la notte e la pasticceria sull'altro lato della strada, sempre in piena notte. Tre privati hanno avuto in questi palazzi dei furti sempre di notte ed è quindi evidente che c'è qualcuno che si approfitta anche della presenza di persone di notte per camuffarsi e fare i propri affari illeciti. Oltre questo abbiamo avuto il ritorno dei piromani con una notte di incendi che hanno coinvolto auto, motorini e cassonetti. Oltre ai vandalismi a cui ormai purtroppo siamo abituati, sono stati vandalizzati il Ponte Vecchio, è stato vandalizzato il Parco Bolivar con la statua storica di Bolivar che è stata buttata in terra. L'anno scorso abbiamo avuto al Parco Belluto una delle biciclette del bike sharing buttate dentro la fontana. Abbiamo avuto il vandalismo delle panchine appena messe sulla riva della Niene poche settimane fa. Due giorni dopo erano tranquillamente vandalizzate e poi nei parchi hai un bivacco che comporta vandalismi di ogni sorta. Ogni giorno trovi per strada, sulle scalette e nei parchi bottiglie, resti di ogni tipo. Qui nessuno è contrario alla movida a prescindere. Quello che esaspera i residenti è che il quartiere sembra essere stato lasciato al degrado e all'illegalità. Una zona che avrebbe tutto per essere uno dei gioielli della capitale ma che non riesce più a brillare da anni. Io ho paura per i miei figli. I miei figli quella volta che escono, che adesso è il sabato sera e rientrano, ho paura. Cioè il passo carrabile che è sempre pieno in doppia filo. Ho avuto dei grandi danni. Ci hanno rotto gli spicchietti della macchina perché dovevamo entrare al nostro passo carrabile a luna di notte. Una volta che siamo usciti, stavamo a un matrimonio. Allora un signore ubriaco qui si è scocciato, ci ha preso a parolacce. Voleva aggredire mio marito e poi alla fine, siccome è stato trattenuto, non riuscendo a sfogare la sua ira, a luna era di notte, ha rotto i due spicchietti. Noi dovevamo entrare al passo carrabile che paghiamo. Quindi paura per queste aggressioni, non si dorme la notte. Io chiedo allo Stato, insomma noi paghiamo tante tasse. Lo Stato mi costa più di tre figli a me. Cioè mio marito è una vita che lavora, poveretto, non fa tempo. Io dalla busta paga tutti i mesi so soldi e soldi. I servizi, quel minimo di servizi.